Amiche e amici di Roma 1, buongiorno, ben trovati in diretta a Ditola Roma 1. 13.42 minuti, cominciamo il nostro appuntamento di Ditola Roma 1, che soltanto in questi giorni, insomma, tra le varie feste, si allunga un po', no? Guadagnando una mezz'ora sull'orario di solito coperto, brutto termine, insomma, dalla collega Eleana Linari, che salutiamo. Oggi però cominciamo con un appuntamento fisso, proprio per Roma in diretta, di solito, e che oggi invece teniamo con grande piacere nel nostro spazio, che è quello con gli amici di Capodarco Baleno, la comunità di Capodarco, che penso ormai conoscerete bene, soprattutto i telespettatori più affezionati di Roma 1, ma che tantissime persone, grazie a Dio, conoscono per quanto fa da tanti anni. Allora, immancabile il nostro ospite, che presento, insomma, sono un poco cavaliere stavolta, poi subito l'altra ospite, Don Franco, che è venuto a ritrovarci di nuovo. Buongiorno, Don Franco. Buongiorno a tutti. È venuto con un'amica, la signora Roberta Montesi, è vero? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi parleremo di un bellissimo spettacolo, vedrete anche delle immagini molto belle, tra un attimo, perché la signora Roberta si occupa dei... Dei laboratori sociali. Laboratori sociali di Capodarco. Che io vorrei spiegare. Spieghiamoli, spieghiamoli. Allora, nella mia storia di tensione di lavoro per il prima del dopo, con le famiglie, le ultime tre puntate erano con le famiglie di Fiorentino, Maurizio, di Roma, Dora, e poi l'ultima di Lanuvio con Sandra Cerabino, che ha creato l'associazione Primavera. Le famiglie protagoniste con noi del prima del dopo. Una delle tensioni che io ho cercato di risolvere per le famiglie molto sole, dove molti figli disabili rimanendo a casa creavano grande preoccupazione. Ho creato nel 2003, nel 2002, cominciato a lavorare con le famiglie, su questa tensione su cui poi nacque nel 2004 la fondazione Prima del dopo Capodarco. Invece già nel 2003 mi sono dato da fare, creando Capodarco per le imprese, con gli amici imprenditori che mi hanno dato una mano su questo piano ideale, della responsabilità sociale dell'impresa, che può essere una cosa fattiva se le imprese colgono i bisogni del territorio. Siamo andati niente di meno a Milano, dalla RAS Assicurazioni, e ci hanno dato per tre anni l'aiuto economico per mettere in piedi i laboratori sociali, su cui ecco Roberta, che è volontaria, comunitaria e poi adesso operatrice di Capodarco da circa 30 anni, nel 2014 farà 30 anni di vita con noi, dirige in maniera meravigliosa questi laboratori sociali a Capodarco, a Via Lungro 3, dove praticamente 65 ragazzi sperimentano il lavoro, vivono il lavoro, in ceramica, nel restauro e nel laboratorio della pasta. Quindi io lascerei a lei... Spiegare cosa fanno, però col supporto fondamentale di queste immagini. Allora io comincio a farle vedere ai nostri telespettatori. Che cosa fanno? Da qua, insomma, già cominciamo a capire che è un lavoro manuale, che è un lavoro molto importante e che prevede anche grande attenzione, soprattutto. Sì, la caratteristica dei laboratori, appunto, sono tre laboratori in cui ci sono 65 ragazzi divisi in due gruppi, un gruppo di mattina dalle 9 alle 13 e un gruppo di pomeriggio dalle 14 alle 18. Quattro volte a settimana si fa l'attività produttiva, quindi si fa la ceramica Raku, appunto, che stiamo vedendo le immagini. Come si chiama questa, signora Roberta? La ceramica Raku, che è una tecnica giapponese, ha questa caratteristica che è molto... Non ha bisogno di grandi finalità, cioè di un lavoro molto fine. Ogni pezzo è unico. Però sono molto belli questi gioielli, veramente. Sono bellissime e sono anche particolari. Ecco, io anche ce ne ho uno perché poi è una cosa veramente unica. E la caratteristica, appunto, dicevo che i ragazzi svolgono l'attività in maniera completamente da soli, nel senso che quando un ragazzo viene inserito nel laboratorio, noi quello che vediamo non è quello che il ragazzo non può fare, ma la prima cosa è che vediamo cosa può fare il ragazzo. E ovviamente ci sono degli operatori sociali. Immagino, scusi, sempre per non, diciamo, sottoporli, poi a quello che sarebbe in realtà uno stress, al contrario, se dovessero... Allora, noi diciamo che i ragazzi vengono a lavorare, ma per noi il lavoro è uno strumento, lo utilizziamo, però non è che i ragazzi vengono e fanno effettivamente un lavoro. È presente anche un tecnico, quindi un artigiano, quindi la caratteristica proprio dei laboratori che appunto ci siamo inventati con Don Franco è questo, che è come se l'azienda si trasferisce nel laboratorio. Quindi il ragazzo viene a tutti gli effetti a lavorare, quindi con le regole del lavoro e quindi veniamo... Il ragazzo viene, tra virgolette, addestrato a stare in un ambiente lavorativo che però è un ambiente sano, perché purtroppo è la difficoltà che abbiamo avuto da tanti anni che Capodarco appunto inserisce i ragazzi a lavorare nell'azienda e che spesso poi i ragazzi, una volta inseriti, poi ritornano a casa. Perché? Perché spesso il luogo di lavoro non è adatto a loro. Può diventare ostile addirittura. Sì, abbiamo avuto per esempio i ragazzi nel momento in cui è andata in pensione, la persona con cui lavorava non si è più trovato con l'altra persona. Qui per esempio che cosa stanno facendo, ecco per esempio? Qui stanno scartavetrando, questo è il laboratorio di restauro, stanno scartavetrando una porta vecchissima che è dei primi anni del Novecento, di una casa di campagna. Questa appunto è all'inizio, poi c'è la foto successiva che invece... No vabbè, c'è comunque... Qui siamo andati su uno spettacolo, attenzione perché so che avete vinto anche un premio molto importante. Sì. No, volevo chiedere, ecco, dire un'altra cosa, vediamo ancora questa immagine. La signora Roberta, come tantissimi altri, fa volontariato, come ricordava Don Franco, lo fanno... No, ha cominciato con il volontariato. Ha cominciato con il volontariato. Adesso è un'operatrice vera, propria. Eh, no, no, intendevo dire per chi è sensibile, spero siano tanti, dal nostro pubblico, non a caso, sotto vedete anche in grafica, ecco, come si può aiutare la comunità capodarco baleno. Le altre immagini adesso, io in realtà, ecco, volevo andare a vedere anche queste qua dello spettacolo teatrale, perché sono veramente meravigliose. Sì, praticamente all'interno dei laboratori sociali, dicevo prima, quattro volte a settimana si fa l'attività produttiva e una volta si fa l'attività espressiva. Quindi, diciamo, più sotto l'aspetto del teatro, dove si lavora molto con il corpo, con la musica, con i colori, dove la persona che ha difficoltà di parlare va a trasmettere, a parlare con il proprio corpo. Da questa esperienza alcuni dei ragazzi che lavorano nei laboratori, ma anche in altri servizi della comunità, fanno parte invece proprio della compagnia, la compagnia Butterfly si chiama così perché noi siamo come delle farfalle, che quindi da dei bozzoli, insomma, brutti, senza forma, che nasce la farfalla. Eccolo qua, questo è il simbolo anche sulla maglietta, no? Sì, sì. La farfalla che appunto può vedere il mondo da diverse angolazioni, dal cielo se vola, dall'albero se è ferma, da per terra. E noi siamo un po' come delle farfalle, perché sul palcoscenico ognuno di noi, insomma, si trasforma e dà vita poi a queste coreografie danzate. La compagnia sono 18, siamo 18 persone, dai 5 anni, che è la persona più piccola a 5 anni, alla più grande che è Enrico, questo ragazzo in carrozzina. Questa è una prova di scena, no? Una prova di una parte dello spettacolo. Sì, 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 sì. Don Franco, posso chiederlo anche a lei, no? Con il suo anche modo di spiegare le cose. Quanto è importante il teatro e perché, secondo lei? Ma perché i ragazzi trasformano, se vorrebbe dire, l'attività lavorativa, è in poesia, la poesia della musica, della danza. Io l'ho visto, i loro spettacoli sono straordinari, anche perché affrontano temi di fondo e quindi musica, danza, loro così vivi, insomma, come lei li sa molto ben istruire, per me è una gioia vederli. Hanno vinto anche un premio nazionale sul teatro... Del disabile, a Trani. Del disabile a Trani, per dire. A Trani viene fatto questo concorso, diciamo questo... Sì, è un festival del disabile che viene fatto a livello nazionale a Trani. Perché ce ne sono diverse, meno male, di compagnie che fanno lavoro con disabili. Però voi avete vinto, insomma, il premio nazionale. Il primo premio, sì, abbiamo vinto il primo premio. Ci teneva a dire che la nostra è una compagnia integrata, quindi ci sono persone con handicap, volontari, operatori sempre della comunità di Capodarco. La cosa bella è che appunto che sul palcoscenico ognuno di noi si trasforma, quindi non c'è più l'handicap, ma ognuno dà quello che riesce a dare e che dà in maniera... Questo non so se è il finale di uno spettacolo, comunque un momento di gruppo molto suggestivo. è una mia curiosità, se qualcuno volesse portare i propri ragazzi o comunque i propri familiari, qui vediamo persone adulte, altro che ragazzi, insomma, che hanno questa energia e questa voglia di farlo, possono contattare voi, anche fuori dalla comunità o comunque c'è un modo di approcciare, no? Sì, sì, noi siamo, appunto, come diceva Don Franco, i laboratori sociali sono in via Lungro 1, siamo anche sul sito di Capodarco e la compagnia, noi siamo disposti anche a fare degli spettacoli, saremo prossimamente al Teatro Verde probabilmente. Quindi diciamo anche questo, l'appello magari a qualche municipio, qualcuno che voglia... Ecco, allora forse questo è ancora più importante, no? Perché per i ragazzi... Che voglia dar lavoro a queste persone, dargli opportunità di spettacoli, loro sono qui pronti a... Sì, la compagnia, ogni persona che partecipa alla compagnia lo fa a livello di volontariato, quindi qui sì, sono una volontaria, lo facciamo come volontari, ognuno di noi, e dicevo ai ragazzi, gli dici di fare uno spettacolo a mezzanotte al Polo Nord e loro prendono partono e fanno, perché per loro è veramente un momento in cui abituati ad avere sempre, perché loro a scuola avevano l'assistenza domiciliare, hanno l'assistenza domiciliare, hanno bisogno spesso di essere aiutati ad andare al bagno, quindi qui sono loro che invece sono i protagonisti e danno qualcosa agli altri, quindi loro sul palcoscenico sono loro che danno, che offrono e che danno uno spettacolo che veramente, non perché lo faccio io, ma veramente è uno spettacolo che è molto emozionante, dove non viene detto una parola e quindi è comprensibile da tutti, abbiamo fatto degli spettacoli in giro per l'Europa tramite dei progetti europei e il nostro è stato l'unico spettacolo che veniva capito e apprezzato da tutti, in tutto il mondo volendo, perché non è una comunicazione, almeno quel poco che possiamo vedere da un'immagine ferma, veramente c'è questo, però vi ho interrotto su un'altra parte, mancano pochi minuti alla fine diciamo di questo spazio, allora la recupero questa foto, Roberta diceva la porta prima e la porta dopo, è giusto farla vedere, è la porta finita, esatto, questa è la porta finita e una ragazza quando poi è venuto la persona a riprendersi la porta ha detto ma oggi va via la porta, allora la devo salutare, perché per loro diventa proprio parte di loro stessi, è un prodotto finito che poi sono fieri di poter fare... anche questo racconto, però ho visto qualcos'altro insomma che mi ha ingolosito da un altro punto di vista, che cos'è questo, cioè che cos'è lo capiamo no? Questa è la pasta, perché appunto uno dei laboratori ha la produzione di pasta fresca che viene data a livello gratuito alla Caritas di Ocesana, non possiamo vendere perché noi siamo comunque dei laboratori sociali, siamo finanziati dal comune di Roma, quinto dipartimento e appunto diamo in maniera gratuita alla Caritas di Ocesana e alla benza della comunità. Tanta pasta producete? Eh, questo mi trovi non... Tanta però insomma. Tanta insomma, tanta 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 e... Beh questo anche non lo sapevo insomma, chi va purtroppo, chi si trova costretto insomma a fare affidamento sulla Caritas sappia che questa pasta bellissima arriva da Capodalco. Bellissima, devo dire, perché abbiamo avuto... sono ovviamente tutti i controlli dell'Asle, ok? Abbiamo addirittura un ringraziamento da parte appunto del responsabile della Caritas perché veramente insomma... e per i ragazzi è un fiore all'occhiello perché loro che danno appunto, loro dicono da mangiare ai poveri e per loro è veramente una cosa... Bellissima anche questa spiegazione, ecco qua un'altra fase della lavorazione, mancano un paio di minuti. Allora Don Franco, io ho visto sul sito dove torno, tra l'altro di Capodalco, lei ha scritto una lettera lunga alle famiglie, però la prendo come spunto per chiederle che buon Natale ha dato insomma alle famiglie che vivono questa realtà meravigliosa di Capodalco e soprattutto che augurio si fa, fa a lei ma a tutte le persone vicine a lei per questo 2013. Bene, il problema è questo, che da questa prima esperienza del prima e del dopo attraverso i laboratori sociali adesso dobbiamo passare alle case famiglia perché il vero problema che ho affrontato sul prima e del dopo è dare una seconda casa ai ragazzi disabili come una famiglia alternativa su cui i ragazzi in questa casa famiglia progrediscono nella loro autonomia, nel processo di separazione che un domani ci sarà quando i genitori non ci saranno più ed è la grande angoscia dei genitori. Io questi giorni sto coinvolgendo le famiglie di Capodalco perché abbiamo 130 famiglie che hanno i ragazzi loro nella formazione professionale, i 65 dei laboratori sociali, i 30 del centro di urdo, della unità residenziale, quindi queste famiglie vanno coinvolte per elaborare nel territorio dei Castelli, io adesso alle 3 e mezza ho un appuntamento per vedere una struttura a Genzano dove posso sognare una casa famiglia stabile perché quella che ho a grotta ferrata che farò vedere nella prossima puntata, la casa famiglia Miglia e Memo è una realtà dove prepariamo i ragazzi a vivere insieme con altri ragazzi, con operatori, con famiglie nei propri territori, quindi è un augurio che faccio per questo spirito natalizio che ancora c'è e poi l'epifania fra pochi giorni rappresenta la manifestazione di potenza del Signore quando manifesta ai magi la sua regalità, regalità sofferta perché sappiamo quello che lui ha passato, però è una regalità da cui nasce la trasformazione dei mali, degli uomini e questo bisogno angoscioso del dopo di noi, delle famiglie, saranno le case famiglie, io voglio propagandare le nostre case famiglie che nasceranno nel territorio dei Castelli e che a Roma, nello sviluppo della comunità di Capodarto di Roma, si dovrà realizzare anche nel territorio di Roma. Ne riparliamo sicuramente, magari già dalla prossima settimana, quando Don Franco appunto come detto ci farà conoscere da dentro ancora più questa, una delle case famiglie, grazie per essere stati con noi, grazie Don Franco, auguri speciali a lei e a tutte le persone che vivono con voi, grazie signora Roberta e buon lavoro, è andata bene, era un po' emozionata molto emozionata, ha visto? Siamo tra amici, vabbè insomma, meglio così, grazie di essere stata qua e insomma l'appuntamento con Capodarco tornerà la prossima settimana, il prossimo giovedì invece do la linea alla regia per un piccolo spazio pubblicitario e poi torniamo con Ditola Roma 1 con insomma tanti argomenti e soprattutto come dico ogni giorno con le telefonate di voi telespettatori a tra poco.